L'ennesima tragedia avvenuta nel canale di Sicilia, oltre al dolore e all'emozione, provoca anche il solito scontro politico. E poi rimane il tema dei migranti accolti nelle città italiane. Anche Parma si appresta a ricevere altri rifugiati, oltre ai 315 già ospitati in provincia, e i nuovi arrivati presto potrebbero essere ospitati nella ex scuola di Castelnuovo di proprietà del comune, che l'ha concessa e incomodato gratuito alla prefettura. Saranno questi i temi al centro della puntata di domani sera di Parma Europa in onda indiretta alle ore 21. Dopo il nuovo dramma del mare avvenuto ieri, tornano inevitabilmente anche le polemiche. La politica, ha scritto il sindaco Pizzarotti, dà il peggio quando sfrutta i problemi, i drammi, cercando di addossare le responsabilità alla parte avversa. Lo abbiamo visto fare a tutti, negli anni, persone che hanno avuto responsabilità di governo e dalle quali, dice il sindaco, ci si aspetterebbe rispetto e comprensione, ma la politica è diventata solo pancia, recriminazioni, mentre oggi nel canale di Sicilia regna un silenzio surreale. Non penso che persone che abbandonano tutto in nome di una speranza, continua il sindaco, possano avere colpe, sperano qualcosa di meglio per sé e soprattutto per i propri figli. Questo li porta a intraprendere un viaggio che in un passato ormai lontano anche il nostro popolo ha più volte affrontato. E voi che ogni giorno latrate contro gli immigrati come origine di tutti i problemi, chiude il sindaco, chiedetevi se nel profondo provate almeno un po' di vergogna e di dolore, questa l'accusa finale. Dibattito aperto domani sera in diretta alle 21 a Parme dell'Europa.